Come siete ragazzi? So che ci siete Siete di tutto bene Come l'hai fatto a sparare? Ok, comunque E sono altri ovviamente A qualche motivo non posso prenderlo È il mio turno Ah, è arrivato qualcun altro Che arriva? Oh, oggetto Più materiale Che è arrivato per mia curiosità Qui cosa c'è? Guarda qualcos'altro Wow Più materiale di quanto credessi Oh, qua ce n'è altro ancora Sai che devo uscire dall'astronave? Sono rimasti pochi Pochi minuti Ovviamente che vado Dov'è il passaggio per uscire? Non lo vedo Non lo vedo Ah, sta lì, ok Non lo vedo Chi è? Oh oh Quattro di Ginyu Quattro di Gino Quattro di Gino Devo di potercela fare Beh, beccatevi questo E dai, rilasciami stare Au Vai Beccherò qualcuno, spero E dai Ho beccato Gino Fammi curare, va Mi confondo tra Ginyu e Goku E' il mio alleato Anche se sono diversi Au Au Oh mio dio Oh mio dio Che casino Vai via Vai via Vai via Ok, è andato Ok Devi morire Ok Au Pazzardo Non vedo niente Che sta succedendo? Ok Mi viene che mi mantengo un po' sulla distanza Probabilmente Per ricaricarmi un minimo Vieni a morire Please Please Appena mi avvicino Mi attacca l'altro tizio Che palle Ok Ho preso qualcuno Non ne ho idea Ok Vieni a morire Please Ho capito Vabbè Mi fai avvicinare di un centimetro Poi ho contato giù di nuovo Vai, vai tu che sei quasi andato Su, su Push Addio Ok Eh, non ce la faccio Non ce la faccio Au Ragazzi Picchiatelo se non ci fosse un domani Please Eh, ho tenuto il tempo 34 secondi Non ce la faccio Mi ocko O O Scopi Ri E Mi Mer untando Ogno ž vedo il tempo comunque ok non ce l'abbiamo fatta purtroppo ah superata comunque non abbiamo preso il bonus finale quella è una cosa brutta ma vabbè nuovo livello buono attacco di materiali l'attacco speciale è posa da combattimento B ok con questo personaggio non le userò però le posa da combattimento ovunque abbiamo livellato mettiamoci un po' di attributi in più 12 e 12 attacchi di base e figure massimo salute 16 prossimo livello penso che metterò solo salute no metterò tutto sulla salute e poi uno su attacchi di super colpi poi do anche aura massima quelli devo portarli a 6 possibilmente anche a 8 comunque non male adesso forse abbiamo abbastanza soldi per comprare quello che volevamo comprare sì ci mancano i guanti di questo completo vediamo pure quelli già che ci siamo c'era anche l'abito del cran di freezer c'era pure quello non sarebbe male probabilmente però toccherebbe vedere per vedere cosa aumentano negozi accessori negozio abiti questo è tutto da eroe che aumenta aura attacco di base super colpi non male mi servono i guanti di di questa armatura qua battaglia tribuna demoniaci di shingi questi qua yes puoi vendere qualcosa che non mi serve troppo la roba la vendi a metà prezzo quando la rivendi quindi un po' una fregatura adesso c'ho pure i guanti perfetto not bad not bad mi manca solo tipo lo scooter viola o blu blu forse ci sta meglio questo apposto comunque cosa ho equipaggiato di posso cambiare questo qua no solo quello scooter ok scooter ovviamente non si può cambiare il colore sarebbe troppo capo no invece si si può cambiare ma questi sono i miei vestiti devo cambiare lo no no purtroppo è così e basta vabbè mi accontento dai per ora andiamo a fare quattro chiacchiere con Trunks e vediamo se riusciamo a proseguire un po' con la storia che ne dite? però dovrei aver sbloccato qualche mossa nuova più che altro eeeh 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 verità masenco poso da combattimento b murale difensiva murale difensiva cos'è? diventa uno scudo insuperabile per il tuo alleato tieni premuto il comando per restare in posizione più a lungo no in caso che giochi tipo visione dello spirito uso la ora per spazzare via tutta la zona ok con le masse non le uso mai perché mi dimentico anche di come si usano quindi però vabbè fatemi andare a parlare con Trunks e vediamo cosa mi deve dire di bello eeeh ci sei? si no ci faccio allora andiamo ok cosa è stato molto rapido è conciso era 762 è così forte non sono davvero sicuro se potrei anche venire con il mio potere ho solo ho solo ho solo guardare un po' più non ci faccio non ci faccio non ci faccio Ciò dobbiamo vedere con Freeza in versione potenziata Mi massacrerà di cattiveria, mi sa tanto All'inizio stava lì fermo a prendere mazzate quando ho fatto il tutorial Ma stavolta combatterà, quindi mi sa che mi devasta Comunque Tu hai fatto ora Tu hai rinunato il mio sogno Di vita e vita Mi sono molto vicino Ma i Dragon Balls sono petrified Molto per il peggito Ma ancora per me It's the very first time I have been made such a fool of How dare you How dare you maggots I will torture you slowly What? You are still there I'll just kill you all Imperatore Freezer Ok, questa è una boss battle Se ne ho mai vista una Posizione di vittoria, riducere la salute di Freezer a un certo valore Ok What a crazy power There's no, there's no way I can win Do you honestly think four ants and really beat a dinosaur? I do If we band together we might actually be able to win I'll have you know the power levels are rising And I am close to becoming the super saiyan you fear so much I was wondering what he was going to say You literally know how to push my butt You have to protect everyone while you're fighting Freezer Think of a surviving nemetria Transform Freezer Why don't you show everyone your real form right now Transform? Transform? There are some aliens who can transform when a particular situation is called Ouchie Oh yeah Oh yeah Oh yeah You want to die? That's that I'll warn you I have three more transformation Eh I'll show you all Ah Ah Diventerà un bestione I have a little reward for angering me Questa è quella finale però Questa è la forma finale Impossibile! He went directly into his final form The mystery is completely changed And now Goku won't be back in time Ahahahah Ahahahah I'll show you something great Have a plan on how to win? Pecca di questo Mi ha fatto niente purtroppo Smile while you still can For me and the super saiyan that you have feared your entire life You make the worst jokes Danza Corpo perfetto di Freezer Oh oh vado via vado via No come non detto Non sono potuto andare via neanche a pagare Becca di questo però Ah L'ho mancato Oh oh Ok Devo mantenere un po' la distanza Mi sa che mi conviene Oh via 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 Au 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 Devo curare Mi devo curare Mi devo curare tutti Devo curare Dammi qua Grazie mille Sennò male che ce l'avevo Becca di... Niente Becca di questo Di nuovo Peccato Oh yeah Salto l'ho preso in pieno Più o meno Oh yeah Oh yeah Oh Uh oh This is no fun You seem to have lost the will to fight It's a bit too soon But I just helped them with you all Hey Sorry It's just people out Another nimethian Whatever Vegeta is done I've lost You're the one Yeah 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 Ow You're quite strong I almost want you for an underling If Piccolo dies The Dragon Balls on Earth will be No matter what We can't let that happen But this isn't enough You can't beat me I'm a monster Hasn't even used half of this power Okay What now Sorry I'm late I'll take care of the rest Castorock Listen Freeza has destroyed our home The home Of the saints Planet Vegeta Please Please defeat Freeza Defender Erase Please Vegeta You're not dead yet Such a diehard Oh oh Via 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 Come se non ci fosse un domani Ah ma beccato il passato Ha devastato di cattiverio Mantegno un po' la distanza eh Goku Pensaci tu eh What a fool What a stubborn guy I'm starting to get annoyed Me too Maybe I'll quit with the warm up And start fighting seriously Me too That hurts That hurts Freeza Can I ask you to do something I'd like to ask If you'd give me a little bit of time I don't know if it'll work But there's something I have to try What? But because he doesn't say anything That there's a game in mezzo Help him Oh oh Tell me who has carried out the health Please Spirit bomb Goku is using the spirit bomb Please We have to buy some time It's real simple If Goku can shoot the spirit bomb Okay History will be corrected All the planets in the solar system And everything in the galaxy Please share your power with me You are not bad But it's still not good enough to beat me You did well You know for a minute You can get away from me You can get away from me Please Thank you You can get away from me Thank you Oh oh Ow Via, 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 via Via, 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 via Ah, 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 ah Oh madonna che dolore Vieni qua bastardo Beccati questo in faccia No, e dai Bastardo Mi ha evitato il mega ultracolpo finale Oh, 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 forse ce l'ho fatta Stavo per collassare Oh, proprio pelo pelo ce l'ho fatta S addirittura, wow Non è Z ma va bene Ho fatto un livello almeno Almeno uno Please Please No Ok Eh, mi sa che Ne vado a fare una Queste secondaria Giusto una Voglio livellare ancora Vuoi fare un altro livello Possibilmente 2.050 Non mi manca tanto Vegetta adesso vuole diventare mio istruttore Non so Se mi male Chissà forse hai ragione Almeno in parte Mi chiamo Vegetta Mi allenerò con te Se vorrai Sarò il tuo insegnante Blablabla Sì, diventa il mio insegnante Scarichiamo momentaneamente più L'altro non mi sembra che Non mi stia imparando più niente di nuovo Per cui Almeno che non devo andargli a riparlare Probabilmente sì Però vabbè Diventa l'apprentista di Vegetta Riduce la salute di Vegetta Con un certo valore Ok Però posso fare Argus of the prince Of all Saiyans Will be watching you And probably laughing What's the matter? That isn't even enough For a warm up Argus of the prince Well, well Looks like someone's got some hidden potential Superata Oh, ho fatto un nuovo livello Benone Stacco speciale Canone Galic Questi non devo nemmeno andare a fare le missioni secondarie Benone Molto bene Bravo, superata Sarò il tuo insegnante Non dimenticare il fiero principale Il insegnante Non ti è concesso perdere Hai capito? Tu ho promesso di insegnare un'abilità Il canone Galic Un'abilità quasi al di sopra Della tua capacità Patroneggia prima questa Diventa più forte E potrai insegnarti anche una nuova abilità Ok Benone Più che altro Ho livellato almeno Quindi Posso andare direttamente a combattere Da questo Salute in abbondanza Una stat che è molto importante è la salute Se non te ne metti abbastanza Ti massacro in tre secondi Penso che può essere bravo quanto ti pare al gioco Ma se non hai abbastanza salute Quegli errori li paghi carissimi Quindi Ehi Meglio avere tanta salute Vuoi riprendere in carica Della patrone che paghi Yes Ci provo Vediamo se Sono livellato un pochino Vediamo se riesco a fare qualcosa in più Spoiler Non è stato veramente sconfitto Ecco Non è stato Non è stato Mi ricordo questa scena Oh yeah Finalmente Il Super Saiyan Furioso Io duccio la salute di Freeza Ha un certo valore That's enough Freeza Now I'm MAD The history up to this point is correct Now all you have to do Is beat Freeza I'm going to do Dad What's going on? Go on Take it And go back to work on Oh Get out of here While I still have Some control over myself Go now Sì, grazie papà, andremo a aspettare, andremo a aspettare per te per andare via!